La storia che stiamo per raccontare è una storia molto particolare, che viaggia tra la finzione e la realtà storica, quella vera, le origini del potere. Niente meno è un titolo ambizioso il titolo di questo libro. E quali saranno le origini del potere? Certo, le origini del potere, se andiamo a scovare questa strada, ci porta molto lontani, ci porta all'origine del tempo, financo forse ad Abele e Caino. Ma a parte questo, noi andiamo invece a incontrare l'origine del potere in un tempo un pochino più vicino a noi, per scoprire la saga di Giulio II, il Papa Guerriero. Giulio II, ovvero Giuliano della Rovere. Siamo tra il 400 e il 500. Alessandra Selmi, buongiorno. Buongiorno Livio, buongiorno a tutti. E benvenuta, benvenuta, anzi bentornata qui nel posto delle parole per questo nuovo romanzo pubblicato dall'editrice Nord. Leggo nelle svolte di copertina che Alessandra Selmi è titolare dell'agenzia letteraria Lorem Ipsum, dove si occupa di scouting e di editing. Tiene una rubrica di critica letteraria sul cittadino di Monza e Brianza e insegna scrittura editoriale all'Università Cattolica di Milano. Allora, l'agenzia editoriale letteraria, anzi Lorem Ipsum, è un nome molto particolare, ecco io vorrei spendere qualche minuto proprio a andare a incontrare questo famoso Lorem Ipsum che ogni tanto incontriamo e che suscita sempre una curiosità. Ecco, lei ce la può raccontare questa storia di Lorem Ipsum? Mi intende dell'agenzia o di come nasce? No, prima di come nasce questo ingombro grafico. Ma in realtà Lorem Ipsum è un testo, come si dice, segnaposto, che tra l'altro ha un'origine antichissima, è un testo che non ha un senso, sembra latino ma in realtà non ha un senso vero, è un testo che viene usato in editoria e in tutto ciò che ha a che vedere anche con la grafica, per riempire degli spazi, per vedere che effetto farà quando un testo sarà completo. In alcuni casi il testo non esiste ancora e quindi per vedere la resa e l'ingombro delle parole in una gabbia grafica si usa appunto questo testo, detto testo segnaposto, che non è un reale testo, non ha veramente un senso, non è veramente latino, ma è stato concepito in questo senso proprio perché non possa disturbare chi lavora, quindi non bisogna farsi distrarre dal senso delle parole, bisogna soltanto guardare l'ingombro. E così nasce appunto questo testo che in realtà ha origini molto molto antiche e che poi è stato più volte modificato. L'Orem Ipsum sono le parole iniziali con cui inizia questo testo e poi dentro ognuno ci ha messo qualcosa, qualcuno addirittura si è divertito nei secoli a metterci frasi più o meno di senso compiuto, messaggi in codice, è un testo molto molto particolare. È un testo molto particolare che ha tirato l'attenzione di Alessandra Selmi perché ha creato la sua agenzia letteraria chiamandola L'Orem Ipsum. Che cosa fa un'agenzia letteraria Alessandra Selmi? Allora, intanto io mi permetto di dire che non sono sola in questa avventura perché l'agenzia è stata fondata da me e dal mio socio che è Jacopo Viganò e che è un altro editor. Allora, cosa facciamo? Un po' di tutto. L'agente letterario, come probabilmente sapete, è la figura che in editoria si interfaccia, fa da tramite, mettiamola così, tra gli autori e gli editori. Quindi per un autore che ha scritto un libro ed è alla ricerca di un editore, la gente si mette appunto alla ricerca non di un editore, ma dell'editore migliore possibile, il più adatto. E poi appunto la gente fa gli interessi dell'autore perché rappresentandolo trae la propria forma di guadagno da una percentuale dei guadagni dei propri autori, quindi ha tutto l'interesse a fare in modo che i propri autori siano felici. E nel nostro caso funziona anche all'inverso. Capita sovente che siano gli editori a darci mandato di cercare qualcosa in particolare, magari di un argomento, un periodo storico, le indicazioni che ci danno sono le più varie. E in questo caso l'agenzia fa il percorso inverso, cioè si mette a fare quello che viene chiamato scouting. Cerchiamo il libro migliore per le richieste dell'editore. Questa è una sintesi molto molto concisa naturalmente, però credo renda bene il senso del lavoro, che è una parte in realtà del lavoro. Alessandra Selmi, invece adesso raccontiamo di altro, nel senso non dell'agenzia letteraria, ma raccontiamo di un romanzo che è uscito da poche settimane e che noi condividiamo con i nostri ascoltatori prossimi lettori. Le origini del potere, la sagla di Giulio II e il papa guerriero. Ora, io sono sempre affascinato da una cosa quando leggo i romanzi storici e le pongo questa domanda, Alessandra Selmi. Quanto conta, mentre io leggo un romanzo dove c'è sì la parte della cosiddetta storia con la S maiuscola, come in questo caso, la storia di Giulio della Rovere, realmente esistito, e quanto invece c'è l'elemento finzione e quindi dall'elemento finzione mi porta a scoprire la storia vera. Io credo che sia un entrare nella storia da un punto di vista molto importante. Lei cosa ne pensa? Io le posso dire che è un lavoro molto difficile. La cosa più difficile per chi decide di scrivere un romanzo storico, non essendo, non volendo fare un saggio storico, nel mio caso non avendo neanche i titoli per poter fare un saggio storico, è riuscire a coniugare due esigenze. Da un lato la fedeltà alla storia con la S maiuscola, e quindi non si possono raccontare cose false, non si possono raccontare cose non credibili. Dall'altro lato però non si possono neanche perdere i lettori per strada. L'obiettivo di un autore, chiunque, esso sia, qualunque cosa scriva, la speranza è di portare i propri lettori fino alla fine, fino all'ultima pagina e poi magari di chiederne ancora, che sarebbe il massimo. Questo significa che non si possono annoiare i lettori. Quindi c'è da un lato il bisogno di veridicità storica, per non deludere anche gli stessi lettori e anche per evitare di essere messi sulla graticola da chi ne sa di più, e contemporaneamente però di raccontare una storia vincente, di coinvolgere il lettore, di prenderlo per mano e di condurlo al centro della scena. È un equilibrio molto difficile che, a mio avviso, rappresenta il maggiore ostacolo per chiunque scriva romanzi storici ed è, credo, la difficoltà maggiore che ho incontrato io stessa confrontandomi con questo genere. Ed era il mese d'agosto, ed era il 1471, così si apre questo romanzo che si sviluppa per circa 400 pagine. Si apre con questo frate che nel caldo di quella giornata vuole arrivare in tempo a Roma, perché a Roma succede qualcosa di molto particolare, Alessandra Selmi. Sì, è la verità, è andata così veramente. Giuliano della Rovere non è un frate qualsiasi, o meglio, Giuliano della Rovere è stato un frate qualsiasi fino a pochi mesi prima, fino forse a poche settimane prima. Poi a un certo punto succede che, appunto, nell'agosto del 1471, suo zio Francesco della Rovere sale al soglio pontificio come Sisto IV. In realtà non se l'aspettava quasi nessuno che questo francescano salisse al soglio di Pietro. È una sorpresa. Ma questa cosa rappresenta per tutta la famiglia della Rovere un'incredibile opportunità di balzo in avanti, nella vita personale e anche storica. Niente più sarà come prima per i della Rovere nel momento in cui Francesco della Rovere diventa Sisto IV. Per intenderci, Sisto IV è quello che fa costruire niente meno che la Cappella Sistina, che da Sisto poi prende il nome e che poi Giuliano della Rovere, molto tempo dopo divenuto Papa Giulio II, inizierà a far affrescare. Quindi è un periodo molto importante. questo giovane frate che non si aspettava di avere un'opportunità simile e che non ha sicuramente conoscenza delle cose della vita, soprattutto della vita mondana, si affaccia, parte da un convento di frati francescani da Perugia, si arriva a Roma per l'incoronazione dello zio e si trova davanti non solo una città che non conosceva, ma anche una vita che non poteva immaginare. Quindi è l'inizio di una nuova vita. È l'inizio di una nuova vita, l'inizio anche di un nuovo potere, perché in quegli anni il potere si stava dimostrando nella sua completa versione. Ricordiamo per esempio la presenza dei Borgia nello sviluppo della storia, che è una presenza importante. E questo romanzo che si intitola Le origini del potere ci racconta proprio questo, perché attraverso la vicenda che si sviluppa pagina dopo pagina di Giuliano Della Rover al Soglio Pontificio, in cui da semplice frate, nato ad Albisola, poi va a Roma per l'elezione dello zio, come diceva poco fa lei, comincia questa visione su una realtà fatta molto di eccessi, perché i cugini di questo frate erano veramente molto impetuosi dal punto di vista dei vizi, probabilmente anche Alessandra Selvi. Assolutamente sì, ma in generale questo periodo storico, che noi chiamiamo impropriamente Rinascimento, ma in realtà è proprio il momento in cui dal Medioevo si passa al Rinascimento. Sappiamo tutti che la scoperta dell'America 1492 segna effettivamente l'inizio del Rinascimento. È un periodo particolarissimo, un periodo di grandi contraddizioni e in particolare per il Vaticano di grande sfoggio, di potere, ricchezza, tante, tantissime cose che sono molto lontane dalla nostra idea di cristianesimo e che perfino ai tempi scatenavano qualche obiezione, anzi più di una direi. È un tempo straordinario. In particolare i fratelli Riario che lei ha menzionato poco fa sono cugini di primo grado del nostro protagonista Giuliano Della Rovere, sono anche loro nipoti del Papa, ma prendono due strade diverse. Il primo dei due, Pietro Riario, nipote prediletto del Papa, sì, di qualcuno ai tempi, forse con intento diffamatorio, diceva che fosse in realtà figlio del Papa e quindi frutto niente meno che di un incesto. Pietro Riario è stato il conclavista di Sisto IV, quindi a Pietro Riario si deve materialmente l'aiuto che è arrivato a Francesco Della Rovere per arrivare sul soglio pontificio. Farà una carriera straordinaria ed era un uomo a cui piaceva sicuramente moltissimo la vita, gli piacevano le feste, faceva feste grandiose che facevano parlare di sé per settimane. Era monifico, era generoso, gli piaceva la vita, aveva tanti amanti, era un cardinale, non dimentichiamolo, quindi c'è una contraddizione in questo senso. Morì, si disse, qualcuno disse avvelenato, qualcun altro disse, la sua morte fu poi liquidata come morte per gli eccessi. Ovviamente eravamo sul finire del 1400, non c'erano gli strumenti per poter indagare le cause della morte come facciamo oggi, ma insomma diciamo che la sua morte fu anche in questo caso oggetto di non poche discussioni e di qualche ombra. Mentre suo fratello Girolamo Riario che poi sposerà Caterina Sforza e fu in buona sostanza la mano oscura che mosse i fili della congiura dei pazzi, quindi qualcosa di cui abbiamo sentito parlare tutti. Anche lui un uomo estremamente ambizioso, assetato di potere e di denaro che fece peraltro una bruttissima fine perché quando Sisto IV morì, venuti meno gli aiuti e i sostentamenti del pontefice, Girolamo Riario si trovò nelle condizioni di dover alzare le tasse nella città di Imola dove già non era particolarmente ben visto e insomma dopo un po' i congiurati si introdussero nel palazzo, lo pugnalarono e non contenti lo defenestrarono. Quindi sono figure importantissime e mi sento di dire pur nella tragicità anche molto romanzesche. Molto romanzesche Molto romanzesche perché non possano essere che così, per esempio vorrei ancora ritornare proprio su Giuliano della Rovere, quest'uomo sicuramente straordinario in tutto, anche negli eccessi come abbiamo sentito, ma anche un uomo molto raffinato perché era un grande mecenate di artisti come come Raffaello, Bramante, Michelangelo e poi dall'altra altrettanto straordinario perché era un uomo anche molto politico. Ecco, come poteva coniugare quella pluralità di caratteri quell'uomo Alessandra Selmi? Ma poteva perché da un lato lui era un uomo straordinario Lui tutto poteva Lui tutto poteva, mi sentirei di dire lui era un uomo straordinario già di partenza e poi appunto non dobbiamo mai commettere l'errore di guardare alla storia e al passato con gli occhi del presente. Oggi facciamo un esempio concreto proprio inerente a Giuliano della Rovere era un cardinale che aveva fatto ovviamente prima ancora era un frate che aveva fatto voto di povertà e di castità che poi si trova appunto circondato da un incredibile lusso e da un sacco di donne e non solo donne qualcuno disse che era omosessuale però è vero che ebbe una figlia quindi C'erano anche dei sonetti un po' scherzosi a proposito della sua presunta omosessualità esatto insomma fu uno anche lui fece molto parlare di sé come era possibile ci diciamo noi oggi ci chiediamo noi oggi che guardiamo alla cristianità con un occhio diverso coniugare una sessualità che oggi definiremmo liquida e contemporaneamente il voto di povertà con tutte queste ricchezze ma dico di più il cristianesimo con i suoi precetti di pacifismo di volta porgi l'altra guancia con un papa che poi fu definito guerriero e cioè che non aveva nessun problema a muovere la guerra e quindi a procurare la morte di altri esseri umani ripeto non si può guardare alla storia con gli occhi di oggi si commette un errore bisogna indossare un altro paio di occhiali e reinterpretarla con i canoni del tempo ai tempi naturalmente anche lo stesso Giuliano della Rovere non dimentichiamo che Erasmo da Rotterdam fu uno di quelli che scrisse un bellissimo libro contro tutte queste chiamiamole contraddizioni ma ai tempi era normale lo stesso Borgia che lei ha citato prima che divenne papa ebbe qualcosa come dieci figli forse anche di più i suoi figli vissero niente meno che nel Vaticano Lucrezia Borgia divenne ovviamente famosa tristemente famosa per le sue trame di potere e quindi insomma non era l'unico Giuliano della Rovere a incarnare questa contraddizione che oggi fa sollevare più di un sopracciglio erano i tempi che erano così che in un certo senso erano molto lontani da quello che noi siamo e dal nostro concetto di cristianità queste parole Alessandra Semi sono importanti perché oggi come oggi quando si vuole riscrivere la storia a nostro piacimento si deve per forza di cose indossare degli occhiali che ci portino a considerare il tempo perché non possiamo ragionare semplicemente con il nostro occhio appunto a capo bisogna avere qualche cosa di più di un pensiero ci vuole un pensiero critico soprattutto vero? riprendiamo riprendiamo la nostra conversazione a volte le linee non ci sono amiche ma nonostante tutto continuiamo lei ce l'ha Alessandra Selmi il libro portata di mano ci può leggere un breve passo? ma sì se vi fa piacere io ho pensato di grazie allora ho pensato di leggere un pezzo brevissimo in realtà non vorrei ammorbare i miei lettori e i nostri ascoltatori a proposito della della peste perché temo sia un un tema molto più vicino a noi di quanto si possa pensare certamente mi ha rubato la domanda ma sono felicissimo di ascoltare di ascoltare no anche perché non possiamo non parlare in questo tempo pandemico di peste quindi prego legga pure Alessandra Selmi allora una una piccola piccola premessa nell'agosto del 1476 Giuliano della Rovere che oramai è un cardinale esperto di diplomazia e di cose vaticane torna da Avignone dove ha avuto appunto una dove si è recato con una delegazione diciamo così diplomatica e arriva a Ostia è stato via non poco tempo e trova una Roma completamente diversa trova una Roma che è appunto afflitta dalla dalla peste sono passati circa cento anni da quella che poi è passata alla storia come la peste nera che fece moltissimi morti nel secolo precedente ma è un ricordo che le persone hanno ancora ben presente nella testa come noi temo ricorderemo questo 2020 ancora per molto tempo e quindi appunto i primi sentori di peste generano non poca paura anche perché dobbiamo sempre tenere presente che non si sapeva che cosa fosse la peste non si sapeva o meglio non si sapeva come curarla si pensava ci fossero dei metodi come per esempio arieggiare la casa e aprire le finestre a nord perché aprendo le finestre rivolte a settentrione quanto pare la peste se ne andava e fare bagni in acqua e aceto e fare salassi che insomma non sono propriamente cure che oggi consiglieremmo insomma dunque ho pensato di leggervi un pezzettino molto breve perché si parla di come il contagio viene preso dagli strati della popolazione dunque l'estate infuocata scivolò presto in un mite autunno bagnando d'oro le chiome degli alberi e portando a maturazione l'uva le prime piogge lavarono via il morbo la città lentamente si ripopolò di quanti erano sopravvissuti al contagio i superstiti orfani vedove famiglie decimate non più oppressi dal terrore dalla diffidenza verso il prossimo dal sospetto ritornavano alla normalità soli e tuttavia ancora vivi oltre ai morti provocati dal contagio se ne contavano molti tra gli ebrei accusati di diffondere il morbo avvelenando i pozzi cacciati come bestie stanati nei loro nascondigli donne vecchi bambini senza distinzione senza pietà torturati esposti al pubblico ludibrio portati in giro come trofei e poi arsi sul ruogo del malcontento generale le ragioni di coloro che timidamente avevano fatto notare che la peste colpiva gli stessi ebrei non erano state ascoltate la disperazione era un mostro famelico che reclamava capri e spiatori e chi meglio degli ebrei del popolo che aveva tradito cristo si prestava a questo compito in grato tornarono in città le famiglie nobili lamentando il fatto di aver perduto buona parte della servitù e che i loro palazzi fossero stati depredati tornò anche il papa seguito dai suoi cardinali e molte messe furono celebrate per ringraziare dio di aver posto fine alla terribile pestilenza giuliano non aveva voluto sentire ragioni nonostante lo zio pontefice lo avesse richiamato più volte a sé non si era mosso da roma bernardino si era ammalato per alcuni giorni era stato scosso da febbri altissime vomito e delirio giuliano aveva temuto che morisse e prendendo improvvisamente coscienza di quanto questa prospettiva lo atterrisse si era reso conto di essergli legato da un affetto che travalicava i loro ruoli bernardino non era solo un servo era un confidente un amico un fratello della rovere era rimasto al suo fianco e aveva preteso che gli fossero prestate le migliori cure possibili poi di improvviso come era venuto il malessere era svanito lasciando sul corpo di decupis cicatrici al posto dei bubboni orrendo e incancellabile trofeo di coloro che avevano vinto la peste e per questo ora ne erano immuni Alessandra Selmi autrice del romanzo Le origini del potere la saga di Giulio II e il papa guerriero pubblicato dalla casa editrice Nord prima di salutarci Alessandra Selmi qual è invece il libro che ne fa compagnia in questi giorni? In questi giorni io come puoi immaginare con il lavoro che faccio naturalmente ho più di un libro sul comodino ma direi che in questi giorni ho da pochissimo iniziato a leggere l'ultimo libro di David Quammen che è L'albero intricato edito di Adelphi ho appena iniziato quindi non posso dire un granché ma sono una grande appassionata di questo autore di cui ho letto e apprezzato spillover i libri precedenti e che quindi mi sta tenendo compagnia per la lettura del piacere prima di andare a dormire non dovere di lavoro ecco grazie grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Alessandra Selmi grazie a voi grazie a lei e a tutti voi